E' il giorno della commozione, celebrati questa mattina ai funerali di Sandro Rocchetti, il 24enne morto dopo un incidente stradale. Alle 16.30 lei esegue del padre coraggioso che ha salvato il figlio a cento fonti. Non potrà più avvicinarsi alla sua ex ragazza, un giovane di 22 anni della provincia teramana denunciato dalla polizia per stalking. Il centro di Teramo torna a popolarsi grazie al mercato del sabato. Stasera in Piazza Martiri, l'elezione di Miss Abruzzo. Il caso marziale non esiste. E' la posizione del sindaco di Albadriatica, Franchino Giovannelli, disposto a sospendersi dal Partito Democratico per far valere le sue ragioni. Tutto pronto a Giulianova per la Notte Bianca in programma questa sera. Intanto è iniziata a Campli la 41esima edizione della Saga della Porchetta. Il Teramo oggi in campo alle 17.30 contro la Primavera del Pescara. Vicini ritorni di Azzetta e De Stefano in maglia biancorossa. Alle 17.00 il San Nicoloa affronta Alfadini, la città di Giulianova 1924. In giallo rosso arrivano De Maria e Di Giacinto. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale. Buongiorno, apriamo l'edizione del giornale. Con la cronaca si sono svolti questa mattina a Ponzano di Civitella i funerali di Sandro Rocchetti, ragazzo di 24 anni, morto in seguito all'incidente stradale tra la sua moto e un'auto. La sua moto e un'auto è avvenuto lungo la bonifica del Salinello due giorni fa. Fuori dalla chiesa i suoi amici hanno esposto uno striscione con suo scritto. Sandro Forever, grande commozione tra parenti e amici del ragazzo. Sandro Rocchetti è stato poi tumulato nel cimitero di Santa Eurosa, sempre a Civitella, oggi alle 16.30. Intanto ci saranno le segui a Nepezzano di Donato Camaioni, il papà morto in seguito ad una caduta a Centofonti. Quella di ieri è stata una giornata segnata da due vicende, due episodi che hanno accomunato due vicende completamente diverse. Da una parte un padre donato Camaioni che ha sacrificato la sua vita per salvare quella di suo figlio e dall'altra parte un altro padre che è stato invece arrestato per maltrattamenti proprio sul figlio. Vediamo. Un padre dona la sua vita per salvare quella del figlio, un altro finisce in carcere con la pesante accusa di picchiare e maltrattare il suo. Due storie, due vite, due facce della stessa medaglia, due modi contrapposti di essere genitore. Quella di chi ha sacrificato se stesso per il sangue del suo sangue e quella di chi invece il sangue lo ha versato, ma era quello del figlio. Storie diverse della stessa provincia, storie non di tutti i giorni, ma che il destino ha voluto accomunarle in una stessa giornata, quasi a dare un segnale forte di quelli che sono i casi della vita. Il primo ricorda l'estremo sacrificio per chi crede di chi ha dato se stesso la propria vita per salvare tutti i figli. Gesù Cristo, in quel caso figlio, ma anche padre. L'esempio di Donato Camaioni e di quelli forti, soprattutto da mettere in pratica. Lui è l'eroe che non pensa a sé, ma solo a mettere in salvo la carne della sua carne. Un esempio che il figlio dovrà seguire per tutta la sua vita, segnata indelebilmente da questo episodio. L'altro è alla luce degli occhi di tutti, l'orco cattivo, quello che nel chiuso della propria casa utilizza la forza bruta e la violenza per dare esempi al figlio sicuramente non da seguire. Sarà stato un caso, ma il venerdì 17, che ha fatto da parcoscenico alle due vicende, è quasi emblematico. Anche la cabala a volte può dire la sua. Il lavoro del genitore è quello più difficile da compiere. Essere padre significa soprattutto dare un esempio, possibilmente buono, positivo, che possa servire. Episodi, vite, circostanze che si intrecciano e vengono comparate e associate in maniera forte, contrastante. Il tutto poi valutato secondo quelle che sono le sensibilità di ognuno di noi, sotto un solo segno. Il primo, che per chi vuole essere cristiano, si impara e si insegna ai più piccoli, quello che inizia con nel nome del padre. Ancora cronaca, divieto di avvicinarsi all'ex fidanzata e parlare con lei. E questa è la natura del provvedimento cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Teramo, Roberto Veneziano, su richiesta del Pubblico Ministero Bruno Ariemma, nei confronti di un 22enne che nelle scorse settimane avrebbe molestato a più riprese la sua ex fidanzata coetanea. L'episodio si è verificato in un comune, l'unitrofo a quello di Teramo. L'indagine effettuata dagli agenti della squadra mobile di Teramo è scattata dopo la denuncia della ragazza che non sopportava più le attenzioni dell'ex compagno. In brevissimo tempo le indagini hanno consentito di accertare una serie di episodi commessi in danno della vittima da parte del denunciato al termine della relazione sentimentale. La ragazza era stata oggetta di ripetute ingiure, minacce soprattutto di maltrattamenti culminati con un grave episodio di lesioni sulla pubblica via, cessato solo grazie all'intervento di amici comuni. Questa mattina al giovane è stato notificato il divieto di avvicinarsi alla ragazza. Ci spostiamo ad Alba Adriatica. Due donne di etnia Rom sono state arrestate in esecuzione di altrettanti provvedimenti della magistratura. I carabinieri della stazione di Alba Adriatica, durante un controllo al territorio, hanno rintracciato e poi arrestato Eleonora Di Giorgio, di 37 anni, e Giovina Di Rocco, di 54 anni. La prima deve scontare sette mesi di reclusione per il reato di tentato furto in abitazione commesso ad Ascoli nel 2010. L'altra donna invece è stata condannata a otto mesi per furto aggravato in concorso commesso a Fabriano nel settembre del 2010. Dopo le formalità di rito, le due zingare sono state ammesse agli arresti domiciliari. Cambiamo decisamente argomento. Il centro di Teramo torna a popolarsi dopo la pausa di Ferragosto. E questo grazie anche al mercato settimanale del sabato. Stasera intanto in piazza c'è l'elezione di Missa Abruzzo. Il servizio. La città torna a popolarsi. Sarà perché oggi sabato è giorno di mercato, ma a Corso San Giorgio comunque la zona centrale di Teramo è molto frequentata. Nulla a che vedere con il vuoto, il silenzio quasi irreale dei giorni a cavallo di Ferragosto. Sicuramente la presenza degli ambulanti oggi è richiamato parecchi teramani che fanno compere. Sono in giro tra le varie bancarelle. Sicuramente meno gente rispetto a quello che è una giornata classica di mercato, ma sicuramente c'è un discreto movimento. Ci sono ancora tanti teramani al mare che proseguiranno le loro vacanze perlomeno fino a domani o comunque la prossima settimana. Questo è un viatico anche importante, questo di oggi sabato, visto che stasera ci saranno anche delle iniziative importanti. A partire dalle 22, dalla finale regionale di Miss Italia qui in piazza Martiri della Libertà. E qui insomma anche il cuore di Teramo torna a vivere dopo la pausa di Ferragosto. Parliamo adesso della visita dei radicali nel giorno di Ferragosto nel carcere di Teramo, nel carcere di Castrogna. Una visita che è evidenziata ancora una volta quelle che sono le problematiche all'interno dell'istituto penitenziario. Criticità che i radicali continueranno a denunciare per cercare di porre rimedio. Vediamo. Quello di Renato Ciminà insieme a Marco Pannelli e ad altri esponenti radicali è stato un Ferragosto particolare. Perché è stato un Ferragosto trascorso all'interno del carcere di Castrogno. Che situazione avete trovato? La situazione che sta in tutte le carceri italiane, io voglio citare il Presidente della Repubblica Italiana, è una prepotente urgenza che ci umilia in Europa. Stanno lì chiusi 22 ore al giorno, non hanno nulla da fare, non c'è lavoro. Ci sono tanti giovani che stanno lì, è tragica la situazione delle carceri italiane, in particolare queste di Teramo. Al di là del fatto che si tratta di un istituto di pena, però il suo raffollamento è forse la cosa più preoccupante. Per certo. Le carceri italiane potrebbero contenere, ne sono 430 adesso attualmente di ospiti carcerati. Io poi col tuo permesso vorrei ringraziare davvero il comandante della Polizia Penitenziaria, degli agenti della Polizia Penitenziaria e i suoi collaboratori che sono stati gentili, davvero gentili. Noi siamo stati lì la mattina dalle 9, credo alle 11 e mezza, dalle 2 fino alle 11, 11 e 30 di sera, non mi ricordo adesso con precisione, e ci hanno accolto davvero bene, come anche i carcerati ci hanno accolto benissimo. Apriamo la pagina dedicata alla politica, ma ci spostiamo ad Albadriatica. Il caso marziale non esiste, il mio dovere è quello di rispettare l'impegno preso con gli elettori, e la posizione dell'assessore al turismo Pierluigi Marziale ad Albadriatica non è assolutamente in discussione, il sindaco Giovannelli non è in sintonia con il direttivo del Partito Democratico, eppure di far valere le sue ragioni è pronto anche a sospendersi dal partito il servizio. Sindaco, la politica non va in vacanza ovviamente nemmeno a Ferragosto, sul tavolo c'è una presa di posizione da parte del segretario del PD di Alba sulla posizione dell'assessore Marziale. Sì, diciamo con grande amarezza devo rispondere a questa domanda e rispondo a questa domanda. In effetti c'è stata una presa di posizione e poi il segretario mi ha protocollato senza neanche preavvertirmi, qui mi sembra un po' eccessivo anche come mancanza di cordialità nei confronti di un sindaco, un deliberato da parte del direttivo, poi bisognerà vedere quante persone hanno partecipato a questo direttivo, sulla, diciamo, sull'affare Marziale. Io come ho detto in Consiglio Comunale mi sono presentato ai cittadini di Alba con una lista civica, con delle forze chiaramente progressiste, di centro-sinistra anche delle forze moderate, o dei rappresentanti delle forze moderate con un programma ed è mio dovere come amministratore rispondere ai cittadini. Di fronte a questo, nella mia piena libertà ed autonomia, così come ho detto tante volte, questi ordini quasi militari se li tengono chi li ha prodotti da questo lato. Sono disposto anche a sospendermi dal partito. Io avrò un colloquio con il segretario provinciale per vedere se questi comportamenti, se queste prese di posizione in maniera unilaterale e dico anche gratuita possono essere fatti. Ci spostiamo a Giuglianova, si terrà il 29 agosto al Cursal a partire dalle ore 10, la giornata informativa in cui verrà presentato alla cittadinanza il rapporto ambientale relativo alla variante del piano regolatore, procedura BAS. I lavori inizieranno con i saluti del sindaco Francesco Mastromauro e con l'intervento dell'assessore all'urbanistica, Alfonso Vella. Restiamo sulla costa ma ci spostiamo a Martinsicuro. Lunedì prossimo chiuderà il passaggio a livello di Via Colombo a Martinsicuro per effettuare i lavori di realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario. L'opera dovrebbe essere completata nel giro di 18 mesi in servizio. Lunedì 20 agosto chiuderà il passaggio a livello di Via Colombo a Martinsicuro. Come previsto già da qualche settimana, infatti, dopo il leggero differimento nella tempistica ottenuto dall'amministrazione comunale, le ferrovie chiuderanno l'attuale attraversamento sulle rotaie per realizzare il programmato e atteso sottopasso ferroviario. Il linea di massimo e il divieto di circolazione, sia veicolare che pedonale, come recita l'ordinanza del sindaco Paolo Camaioni, riguarderà il tratto compreso tra i numeri civici 185 ad ovest e 166 ad est del viale che collega la statale 16 al centro cittadino. La nuova opera pubblica dovrebbe essere pronta nel giro di 18 mesi. L'amministrazione comunale, si legge in una nota dell'ente, chiede a tutti i cittadini la massima collaborazione, utilizzando la viabilità alternativa per contenere gli eventuali disagi connessi con la chiusura del passaggio a livello. Almeno inizialmente, infatti, le sbarre si sarebbero dovute abbassare per l'ultima volta già alla fine di luglio. Aspetto questo però che avrebbe messo a dura prova la viabilità del centro cittadino alle prese anche con le problematiche legate ai frequenti allagamenti del sottopasso di via Roma. La giunta comunale però è riuscita a far differire di un mese l'avvio dei lavori, in modo da programmare una viabilità alternativa che possa poi tamponare quelle che saranno le difficoltà prodotte dalla prolungata chiusura al traffico dell'attraversamento ferroviario. Difficoltà che dovrebbero essere i minori da settembre in poi, quando terminerà la stagione turistica. Grande successo di pubblico per lo spettacolo di Raul Cremona che ieri sera ha aperto la ventunesima edizione del Festival Internazionale del Teatro Comico a Sant'Omero. Il comico, attore illusionista milanesa, ha coinvolto anche la platea nei suoi sketch irriverenti e vittime sono state della sua pungente ironia anche il sindaco di Ancarano, Angelo Panichi, e il consigliere regionale del PDL, Emiliano Di Matteo, che sono stati chiamati sul palco ad interpretare due improbabili giovani allievi dell'Accademia di Teatro, diretta dallo stesso Cremona, dando vita a scene esilaranti. Stasera si continua con un altro piatto forte del Festival, i comici emergenti. Ancora eventi, questa sera Giulianova è in programma La Notte Bianca, diverse le iniziative in programma sul lungomare che proseguiranno fino all'alba di domani mattina. Intanto prosegue a Campli la 41esima edizione della Sagra della Porchetta che ha aperto ieri sera i battenti. Facciamo il punto con questo servizio. Notte Bianca sulla costa e Sagra della Porchetta nell'entroterra. Sono due gli eventi più significativi in programma questa sera nel Terramano. Riflettori puntati sul litorale sulla Notte Bianca di Giulianova, iniziativa che prenderà il via alle 21 e proseguirà per tutta la notte. Decisamente significativo lo sforzo degli organizzatori che hanno predisposto 11 aree interessate ai vari spettacoli, sia nella parte centrale del lungomare che nella zona sud. Diversi anche gli artisti di richiamo presenti alla Notte Bianca, da Max Gazze, a Uli John Roth, ex chitarrista degli Scorpions, ai Camafè e alla Iena, Nicolo Torrielli. A fare da corollario poi ci saranno una miriade di iniziative con artisti, ballerini e spettacoli dedicati anche ai più piccoli. Per la Notte Bianca saranno chiuse tutte le strade, le piazze interessate ai vari spettacoli, mentre l'amministrazione comunale ha predisposto dei bus navetta gratuiti, da stasera alle 20 fino a domani mattina alle 5, che faranno la spola tra le aree di parcheggio con il lungomare. Anche le attività commerciali potranno rimanere aperte per l'intera notte. Ieri sera intanto ha aperto i battenti la 41esima edizione della Sagra della Porchetta di Campli. Tante le autorità presenti all'attaglio del nastro con in testa il sindaco Gabriele Giovannini. L'appuntamento eno gastronomico andrà avanti fino a lunedì 20 agosto. La manifestazione prevede anche la presenza di 10 porchettai locali, che si sfideranno per decretare la porchetta più buona. In queste edizioni il vincitore della Sagra sarà deciso da tre giurie tecniche, composte da enologi, giornalisti, cuochi, esperti e una giuria popolare, composta da 28 persone scelte a sorte tra i vari candidati. Il primo classificato della Sagra sarà omaggiato di un coltello nella cui lama è impresso lo stemma del Museo archeologico nazionale di Campli, offerto dallo stesso museo. Ancora a eventi, si è chiusa ieri sera la 43esima edizione della Sagra di Torano Nuovo, una sagra che anche quest'anno ha registrato un boom di presenze. Oltre, infatti, 80.000 buongustai hanno preso parte alla più grande vetrina, eno gastronomica d'Abruzzo. Particolarmente soddisfatto è il sindaco Dino Pepe per la conferma, nonostante la crisi di tante iniziative similari, di un grande appuntamento dell'estate abruzzese. Molto apprezzata è stata la mostra mercato dei vini Doc con la presenza di nove cantine vinicole. Preseguono gli eventi nella settimana di ferragosto nel borgo di Castelbasso, appuntamento con il cooking show della chef Domenica Vagnarelli, domani, domenica 19 agosto, promosso a Castelbasso dalla Fondazione Menegaz per le arti e le culture, nell'ambito di Castelbasso Civitella, cultura contemporanea nei borghi, realizzato in collaborazione con l'Associazione Culturale NACA Arte. E adesso è arrivato il momento di andare a vedere i titoli più importanti proposti dai quotidiani in edicola oggi. Vediamo. Rassegna stampa locale sabato 18 agosto 2012. Il centro. È morto l'uomo precipitato dalla cascata delle cento fonti. Troppo gravi le lesioni alla testa. Botti al figlio e l'anziana madre, arrestato. Altri in cella un padre che da anni maltrattava i familiari. Assunto dalla Haslen, nipote di Varrassi. Il medico lavora a Teramo. Costantini, dell'IDV. Solo a Teramo succedono queste cose. Giulianova, notte bianca, in lungomare, diventa un palcoscenico. Il tratto centrale della riviera chiude al traffico dal primo pomeriggio di oggi. Il messaggero massacra il figlio e picchia la nonna. Atria, arrestato padre e padrone. La polizia interrompe violenze in casa che duravano da anni. Morto il papà caduto in montagna. Il 47enne di Nepezzano aveva salvato il figlio. Giulianova, notte bianca, blindata la città. Cento uomini di tutte le forze dell'ordine disposto a un servizio di bosnavetta. Giulianova, sbatte la testa sul fondale. È fuori pericolo. La città, morto il papà caduto con il figlio mentre passeggiava in montagna. Donato Camaione lascia due figli. Un Teramano a caccia dell'oro. Galliano Marchionni a Londra con la canotta della Nazionale di basket in carrozzina. Il tempo bruciano le colline Teramare. Giorni di super lavoro per i vigili del fuoco a Bellante e Mutignano. Pineto e Giulianova, arresti domiciliari per due giovani. Nepezzano, clinicamente morto, il padre coraggioso. Sfumate le speranze di un risveglio dal coma. Atri, arrestato per violenza e in famiglia. Che tempo farà nelle prossime ore? Ci dice tutto a meteoteramo.it Previsioni per oggi in provincia di Teramo. Bella giornata di sole su gran parte del territorio provinciale, ad eccezione di locali addensamenti in prossimità della dorsalia peninica nelle ore pomeridiane. Non sono previste precipitazioni rilevanti. Temperature stazionarie, massime comprese tra 30 e 33 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 29 e 32 gradi sulle coste. Venti deboli o moderati settentrionali, adriatico quasi calmo o poco mosso. Apriamo la pagina sportiva parlando del Teramo Calcio che oggi pomeriggio alle 17.30 allo stadio di Piano Daccio affronterà in amichevole la primavera del Pescara. Una sfida che metterà contro i due fratelli Bucchi perché da una parte con la maglia del Teramo giocherà Andrea Bucchi mentre sulla panchina della primavera del Pescara ci sarà Cristian Bucchi, suo fratello. Sarà uno degli ultimi test per il Teramo di Cappellacci in vista del primo impegno ufficiale, il Coppa Italia, previsto per il 26 agosto e domani appunto si saprà quale sarà la squadra tra l'Aquila e Foligno che il Teramo dovrà affrontare tra due domeniche. Intanto sembra sempre più vicino il ritorno sia di Ciro Iazzetta e in maglia bianco-rossa dal dicembre dello scorso anno e sia di Carmine e De Stefano. Sono due giocatori che possono rivestire lo stesso ruolo, due attaccanti, due esterni e l'alti che stanno appunto per tornare in maglia bianco-rossa De Stefano, forse ve lo ricorderete, era in prova nel Teramo fino a qualche settimana fa. Scendiamo di categoria, sfida amichevole oggi alle 17 allo Stadio Fadini tra il Città di Giulianova 1924 e il San Nicolà un test importante in vista dell'esordio per entrambe le squadre nella Coppa Italia previsto per domenica prossima. Nel frattempo il Giulianova ha definito altre due operazioni di mercato in entrata in giallo-rosso arriva il forte difensore Daniele De Maria, classe 90 e il giovane centrocampista Matteo Di Giacinto, classe 95. Parliamo di pallacanestro, le squadre di Serie A di basket stanno iniziando man mano la preparazione in vista della nuova stagione come è noto il Teramo Basket l'anno prossimo in Serie A non ci sarà ma però facciamo il punto con questo servizio su altri particolari che riguardano proprio la Teramo Basket. Le squadre si scaldano, gli ultimi acquisti arrivano a Darmanforte tutti pronti insomma per la prossima Serie A di basket. A Teramo ovviamente rappresenta ormai solo un bel ricordo dei tempi che furono i tifosi biancorossi iniziano a rigirarsi nel letto durante la notte e non per il caldo ma ricordando nei sogni Carroll, Moss, Tucker, la Final 8, i primi passi nel basket che conta e le sudate salvezze. Tutto ormai finito nel cassettino da custodire girosamente e da aprire quando a qualcuno bisognerà raccontare che noi lì c'eravamo. Ora c'è un voto da colmare. Toccherà la pentateramo, toccherà al Campli, al Roseto, toccherà a qualcuno ma da vecchi nostalgici possiamo dire che non sarà più come prima. Del bello della pallacanestro del Teramo Basket non è rimasto più nulla. Le palestre provinciali per far allenare il settore giovanile che Lino Pellecchia aveva detto di voler aiutare non sono state pagate e toccherà farlo proprio alla Happy Basket di Marco D'Ascenso senza dimenticare che lui e tanti altri non ricevono ancora quanto dovuto per la passata stagione in cui si è lavorato 3.000 difficoltà appesi ad un finanziamento mai arrivato perché altro non si è stati capaci di trovare. Il Teramo Basket ora è solo questo con una società che però rimane in vita chissà per quale motivo. Ancora a pallacanestro la società Campli Basket Nino D'Annunzio, squadra che partecipa al campionato di Serie C regionale ha raggiunto l'accordo con Enrico Gaeta per la stagione sportiva 2012-2013. Gaeta nato a Roma nel dicembre del 75 e cresciuto nelle giovanili della Scavolini Presalo. Per Gaeta si tratta di un ritorno in casa farnese dopo aver vestito infatti colori bianco-rossi nella stagione 2002-2003 nel campionato di B di eccellenza. Altro innesto per quanto riguarda la società farnese è anche l'ingresso nello staff tecnico della formazione per quanto concerne il nuovo preparatore atletico che sarà Mazza Ufo. Bene, con questa notizia è proprio tutto. Prima di salutarci vi ricordiamo quelli che sono gli appuntamenti pomeridiani su Teleponte con l'informazione, con le due finestre informative, alle 17.30 con l'edizione Flash e alle 19.15 con l'edizione Lunga in doppia conduzione. Vi ricordiamo oltre sì che potete seguirci in diretta e in differita sulla nostra web tv all'indirizzo www.teleponte.it Bene, con questo è proprio tutto. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo buon proseguimento di giornata. Buon proseguimento, arrivederci. Grazie.